Dottor Castro, parafrasando il titolo del convegno di oggi, potremmo dire drone è scienza. Sì, la scienza ha scoperto i droni neanche da poco tempo. Moltissimi istituti di ricerca nazionali, università, hanno iniziato a utilizzare queste piattaforme volanti per le loro attività scientifiche. Prima le stesse realtà utilizzavano piattaforme più complesse e anche più costose come gli aeroplani, come gli elicotteri. Adesso con queste piccole macchine che sono più economiche, più versatili, naturalmente possono sviluppare nuove tipologie di ricerca nei settori più disparati che vanno dalla geologia all'osservazione dell'ambiente, passando per una serie di discipline incredibili dove si può applicare la tecnologia del pilotaggio remoto per ottenere dei risultati più rapidamente e ad un costo inferiore. Roma Drone Conference, al settimo appuntamento si tirano le somme. Abbiamo iniziato nell'ottobre del 2014 con la prima conferenza, terminiamo nell'aprile del 2015 con la settima conferenza. Abbiamo contato circa 150 relatori in queste sette conferenze e ben 3.000 persone che vi hanno partecipato. Per noi è sicuramente un grande successo questo primo ciclo di conferenze che nasceva con l'obiettivo di offrire un'occasione per approfondire le applicazioni professionali dei droni. Visto il successo abbiamo deciso di tornare con il secondo ciclo di conferenze nell'anno 2015-2016, nella stagione prossima. Inizieremo in autunno per andare avanti nei mesi successivi tornando ad approfondire quelle applicazioni che sembrano promettere maggiori utilità dal punto di vista dell'impiego e anche dal punto di vista del business. Nel Belmezzo c'è un appuntamento 29, 30 e 31 maggio all'aeroporto dell'Urbe. È l'appuntamento. Roma Drone Expo, in sua seconda edizione, il grande salone aeronautico nazionale sui droni, la più grande manifestazione dedicata ai droni che sia stata mai organizzata in Italia e anche in Europa. Avremo stand espositivi in cui le aziende, gli istituti di ricerca, gli enti pubblici potranno esporre le proprie attività nel settore dei droni. Avremo le forze armate che sono le tradizionali utilizzatrici di questo genere di mezzi. Avremo le scuole di volo, è un fenomeno molto importante, sono oltre 85 già le scuole di volo accreditate in tutta Italia e registrate e autorizzate dall'Enac a formare i futuri piloti di droni. Avremo un'area anche per i piccoli droni amatoriali, per coloro che giocano, che si divertono, che fanno sport. Con i droni è anche un settore, si chiama Vioshow, per le attività dell'aviazione dedicato soprattutto alle società di lavoro aereo e agli enti aviatori che risiedono presso l'aeroporto dell'Urbe. Quindi una grande festa dell'aviazione che vede il drone come protagonista assoluto 29, 30 e 31 maggio all'aeroporto dell'Urbe.